amici di canale caccia siamo di nuovo qui un'altra pillola di sicurezza abbiamo parlato nella pillola precedente di come si utilizza ora io sono andato in rete caro simone e ho trovato un caos perché l'offerta è la più disparata ma che tipo di garanzie da il samaritan certo sui dai è molto importante fare tre domande quanto costa la più spontanea però anche quanto costa manutenerlo e quanto dura la garanzia perché sono aspetti molto importanti per i dai i dai hanno anche sono anche coperti da certificazione essendo dei dispositivi medici sono dei salvavita quindi sono registrati al ministero della salute in ogni stato e sono certificati da enti esterni per esempio questo samaritan ha l'fda food and drug administration che è una delle certificazioni più complesse da ottenere ed è americana questo prodotto e altri e altri tre sono certificati fda cioè nell'ambito di quelli che ho visto ci saranno 40 50 modelli solamente altri tre modelli oltre il samaritan tre fabbricanti tre fabbricanti hanno l'fda ogni fabbricante ha due tre modelli come noi ne abbiamo tre modelli ricordiamo fda sta l'acronimo per food and drug administration che è l'ente americano di controllo diciamo di salvaguardia dell'elt della salute americana che incide tanto sui nostri prosciutti quanto sui dispositivi medici tanto per capirci cioè ha delle regole veramente veramente stringenti esattamente infatti solo quattro produttori hanno richiesto questa naturalmente anche la certificazione europea lo dopo è scontato e beh certo naturalmente c'è il ce che ora è trasformato in mdr una nuova nuova disposizione che alcuni conoscono insomma molto più restrittiva adesso non entriamo nei dettagli poi ha anche la certificazione avionica infatti è stato scelto questo prodotto anche dalla nostra compagnia ita italiana ed è presente il modello automatico su tutti gli 85 aerei della flotta italiana poi abbiamo la certificazione militare la certificazione avionica certificazione militare certificazione di caduta di urti e cadute e questa per i nostri amici è fondamentale perché lo abbiamo già sottolineato quando lo portiamo in giro è vero che abbiamo il nostro o no però nel momento della concitazione stai in un terreno scosceso ti potrebbe anche cadere e poi se si cade si rompe no no è come se uno non è certificato contro anche le cadute e oltre anche certificato contro i campi magnetici quindi anche in ambienti tipo ambulanze o altre aree dove c'è dei campi magnetici può tranquillamente essere usata un'altra cosa importantissima ha la certificazione ip56 è una certificazione contro infiltrazione di solide e liquidi quindi direi polvere acqua tanto per capirci e negli ambienti per esempio fangosi umidità come dire anche non so negli ambienti vostri c'è la rugiada c'è la assolutamente la mattina presto insomma tutta l'aria o i fango in terra eccetera questo può essere tranquillamente appoggiato nel fango e utilizzato su un compagno a terra per dire quindi è veramente il più adatto per un ambiente rough un ambiente un po' forte sì e poi ricordiamo anche un'altra cosa c'è tutto questo in un kilo e cento mille cento grammi perché è una delle cose che mi ha stupito di più perché io ho avuto modo di vedere anche altri modelli delle volte non dico che sembrano dei valigioni ma qui la miniaturizzazione è intervenuta in maniera molto molto sapiente è spesso cinque centimetri e ha un diametro di circa 20 perché come vedete non è proprio circolare è un po più ellittico comunque è veramente uno tra i più leggeri che c'è anzi direi forse il più leggero e soprattutto però molto coperto da garanzie da assicurazioni e da certificazione quindi è un prodotto sicuro al cento per cento bene io penso che con questa pillola abbiamo un pochettino chiarito il campo cioè tolto dei dubbi laddove ce ne fossero è chiaro non tutti i prodotti sono uguali e avere tutta questa serie di certificazioni in particolare in campo avionico in campo militare sapete come sono stringenti le regole in quei settori chiaramente è un ulteriore elemento di garanzia di questo prodotto non ci abbandonate qui perché abbiamo ancora altre specifiche da fornirvi su pillole di sicurezza